Ricordo che nel 2019 quell'aeromoto fece parecchi danni alla struttura, fu subito rimessa al posto e poi ricordiamo inizio 2020 la questione Covid, quindi la piscina purtroppo è stata 5 anni ferma, ci vorrà un pochino di tempo per alcune piccole sistemazioni interne e penso che per fine anno, perché ho parlato con i gestori, per fine anno la piscina dovrebbe essere già fruibile a tutti e spero che possiamo insieme agli altri comuni, agli altri sindaci e colleghi sindaci trovare un punto d'incontro, un punto d'accordo per farsi dare una mano a questa bellissima struttura che essendo bellissima e grande ha anche tantissimi costi di gestione. Cosa bisogna fare per poter partire? C'è un po' di pulizia da fare all'interno, una piccola sistemazione della piscina è già pronta, io penso al massimo un-due mesi e sarà splendida più di prima.